Complicato fare questi video qua Perché la realtà è che dovremmo stare qui un'ora, un'ora e mezza Infatti lo faremo Live, giovedì Ma fare questo video post partita Complicato perché ci sono una marea di cose da dire E la cosa più semplice è arrivare qua E ridire un sacco di concetti che ho già detto Quest'estate, ho già detto quando è andato via Maldini E farò uno sfogo Con tanto di titolone Sfogo folle, incazzato nero per fare views Ma io sul mio canale Troverete sempre il mio vero stato d'animo E il mio vero stato d'animo non è lo stato d'animo di uno incazzato nero O meglio, sono incazzato nero Ma è rassegnazione Uno quando si incazza e fa uno sfogo quasi inaspettato Quindi anomalo Che è una cosa che non fai sempre Uno sfogo forte Uno sfogo forte lo fai quando tu non ti aspetti una situazione Bene, non è questo il caso Perché io speravo assolutamente di sbagliarmi Ma io lo sapevo Sapevo cosa saremmo andati incontro Lo sapevo Avevo i sospetti quando Quando Maldini non rinnovò Cioè, o meglio Quando Maldini non voleva rinnovare Poi rinnovò Ho avuto la conferma di cosa Delle ambizioni di questa società Quando è stato cacciato via Maldini Perché Maldini aveva le vere ambizioni Quelle che vogliamo noi tifosi E loro assolutamente no Ma si è dato il beneficio del dubbio Sempre perché si spera Si spera che le cose vadano meglio Si spera di sbagliarsi, no? Io speravo di sbagliarmi per il bene del Milan Ma non mi sbagliavo È arrivata la conferma dopo la stagione dell'anno scorso È arrivata la conferma totale Dopo ulteriori conferme Che forse non servivano Ma le elenchiamo perché ci sono state Dopo l'arrivo di Paolo Fonseca E tante altre cose L'errore del calciomercato Non siamo riusciti a prendere Un mezzo mediano Tutte mezzali Abbiamo speso soldi Per Emerson Real 18 milioni Ciuqueze 28 Musa 20 Però si critica Paolo Maldini Che ti ha portato uno scudetto Ti ha riportato il semifinale di Champions Ti ha riportato identità Ha cercato di mettere ambizioni Dove l'ambizione non era assolutamente nei progetti E è stato criticato perché Da tutti Dalla maggior parte dei milanisti Perché aveva portato Shard de Keteler al Milan Bene Guardate adesso cos'è Shard de Keteler Evidentemente non ci aveva visto neanche poi così male E noi invece abbiamo speso Nessuno dice niente però Dei 28 milioni di spese per Ciuqueze Mi auguro sempre Si possa svegliare da questo eterno riposo È un anno e mezzo Che non fa assolutamente nulla Ma non voglio parlare di Ciuqueze Piccola riflessione Che è esulata la partita Ma c'entra con la situazione che stiamo vivendo Proprietà Quindi Perché non c'è lo sfogo? Perché io so tutto Sono consapevole di cosa succede Mi aspettavo esattamente che succedesse questo E quindi non sono sorpreso Ecco perché io Non vengo qua e faccio uno sfogo Incredibile Uno perché ho tirato una ventina trentina di pugni Al mio sedile Al mio seggiolino dello stadio Quindi diciamo che un po' mi sono già sfogato E due perché proprio Tragitto San Siro Casa Ho già Mi sono già sfogato E tre Motivo principale Perché io sono consapevole Di questa situazione Non cado dalle nuvole Come fanno in tanti Come stanno facendo in tanti Ma Ci arriviamo Ci stiamo arrivando Ci stiamo accorgendo tutti Di quello che Di quello Insomma Di chi ci comanda E Parliamo della partita Vogliamo parlare della partita Parliamo della partita Perché è giusto farlo Anche in un momento Dove non ve ne frega niente L'ho capito anche dalle storie Perché Mi sono azzardato Dire una cosa Cioè Fonseca L'ha preparata E con la preparata Non voglio dire Che abbiamo Cioè preparare la partita Non significa Non è sinonimo di Giocare bene Fare una grande partita Dominare Vincere Preparare vuol dire Preparare la partita Studiando gli avversari Ok Fonseca per la prima volta In questa stagione Studia l'avversario E gioca Per contrastare l'avversario E per i primi 15 minuti Si è visto Poi Perdiamo Prendiamo 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 una caterba Di tiri Ci dominano Ci spacca nel culo Tutto quello che volete E quindi queste cose Non vengono viste Però io Così Fine primo tempo Dico Finalmente l'ha preparata Non Abbiamo giocato bene Finalmente l'ha preparata Non l'avessi mai detto Quindi Spiego il finalmente l'ha preparata Per chi l'ha visto su Instagram E lo spiega voi di Youtube Tra l'altro ragazzi Se volete lasciare un like In questa bellissima situazione Che stiamo vivendo Se cerchiamo di sostenerci Tra noi Mi date un gran supporto E vi ringrazio Iscrivetevi al canale Solite cose L'ha preparata Cosa vuol dire Nel video Che vi ho lasciato Ieri Dove Vi analizzavo Il pre partita E quello che non andava fatto Parlavo proprio di questa Di questo non andare Ad aggredire alto Il Liverpool Perché il Liverpool È una squadra Che sa uscire molto bene Palla al piede E È molto brava A A creare superiorità Ok Con la pressione Che tu avresti Appunto Avuto Se avessi avuto Appunto la pressione Come l'hai avuta Con il Venezia Con la Lazio Col Parma Col Torino Oggi si è visto Qualcosa di diverso Oggi si è visto Sempre un 4-2-4 Ma come Con rendersi un po' più dietro Con Morata Pronto A fare la prima pressione Sul difensore Sul portiere E Leao Pulisic Bassi Corti In linea con i braccetti Ma non andandogli A prendere alti Ma stando bassi E questo Per i primi 15 minuti Ha dato Molti problemi A Liverpool Riesce a segnare Il Liverpool Non riusciva a uscire bene Perché? Perché tu eri ordinato Eri compatto Anche in difesa Stavi giocando bene Per i primi 20 minuti Hai giocato bene Prima del gol Hai giocato bene Stavi giocando bene E io capisco la rabbia Capisco tutto Ma questo non potete Dire di no Il Milan Primi 20 minuti Stava facendo una buona partita Perché? Perché Era ordinato in campo Tatticamente C'eravamo Avevamo preso le misure A Liverpool Perché? Perché Fonseca L'ha preparata L'ha studiata Fonseca L'hanno preparata Finalmente Hanno Tolto i loro principi di gioco Per poter Contrastare Un Liverpool E per i primi 20 minuti L'hanno fatto Cosa succede dopo? Che Calabria decide Ha la grandiosa idea Di fare un fallo Che non serve a niente Prendere anche il giallo Cross dentro Magnan Indefinibile Indefinibile Sbaglia Come Come può sbagliare un difessore Come hanno sbagliato Nelle prime 4 partite Nostri giocatori Errore del singolo E quell'errore del singolo Ragazzi Blackout totale Perché quell'errore Porta alla luce Oltre ai problemi tattici Ok Che però Sono all'apice Dei problemi Porta alla luce I problemi primari Cioè Poca personalità Poca personalità I leader Non ci sono In questo momento Non ci sono Non hanno la La Come dire Non hanno la fiducia Non hanno Non riescono a dare Anche lo stesso Morata Non riescono a dare Ai più giovani O comunque Ai meno A quelli che hanno bisogno Di essere portati Ad avere una reazione Non riescono a far dare Questa reazione alla squadra L'allenatore Sappiamo Quindi Non c'è la reazione La squadra si Si ammoscia Non sappiamo reagire Di fronte al gol preso E Tutto quello Che era stato preparato Tutto quello che di buono Si era visto Nei primi 20 minuti 15 Quelli che sono stati Finisce Così improvvisamente 2 a 1 Traverse Pallonate Secondo tempo Ancora peggio Eccetera eccetera Quindi Tutti i problemi tattici Che vengono fuori dopo È perché il Milan Perde proprio Completamente la bussola Ok Quindi Il Chiudiamo Ho fatto l'analisi Della partita Chiudiamo il Discorso preparata E ho Spero Di aver fatto capire Cosa intendo Con preparata Ok Preparare bene Non significa giocare bene Fra una grande partita Però vabbè Ci siamo presi gli insulti Ci siamo Siamo sentiti dire Che non capiamo Un cazzo di calcio Ma va benissimo così Siamo nervosi E Ce lo dobbiamo prendere Con chi cerca Di essere Almeno un attimo Lucido sotto Sotto questi aspetti Ma a voi piace A voi So che a tanti piace Semplicemente Quello che Spara a zero E invece anche di Fare magari anche Qualche commento logico Ma visto che piace Spariamo a zero Perché C'è anche da sparare a zero In questo Cerca di sparare Sul Sul Sulla sagoma Su qualcuno Chi? Lui Il nostro dio Che ci sta Scartavetrando Non dico cosa Lo sapete E Per partita Siamo uscito Con una dichiarazione Io sono il boss Gatti escono fuori Quando il leone va via Quando torna Poi torna Si nascondono Dichiarazioni che ci piacevano Quando tu eri in campo E facevi il fenomeno Ce le facevamo andare bene Perché Zatanevano E c'era questo Ma quando sei Pagato da una società Da una proprietà Che Non cura L'interesse del minal Anzi Quindi già Fai una cosa Che non va bene Per noi Ok In più Ci sfrutti Perché fai una conferenza A luglio Dove presenti Fonseca E dici siamo ambiziosi Qua Lassu e giù Fuffa Fuffa Semplicemente ci metti la faccia Per coprire lo schifo Che c'è Ok I progetti non ambiziosi Tutto altro Che c'è da parte De Redboard Tu cerchi di venderci Fuffa E questo E non c'è peggior tradimento E io nel video Dove analizziamo Le parole di Ibra L'ho detto subito Qua siamo di fronte a un bivio O Avremo i fatti E sapevo che non sarebbero arrivati Oppure Sarà il peggior tradimento E Ibra ragazzi Mi spiace Ma io lo sapevo Arriva in questo Arriva con questo ruolo In questa dirigenza E sapevo che sarebbe andata a finire Così Ecco perché non mi vedete Chissà quanto Arrabbiato neanche su questo punto Perché sono deluso Sono amareggiato E ho già metabolizzato E so già Quello che succederà Sulla frase Sono il boss Io mi sarei presente Io Avrei fatto Una roba del tipo Domani si sveglia Ok Esce di casa Si trova un bello station davanti Che ho scritto Milano siamo noi Non sei il boss Fa capire un po' Come funziona Perché Perché non ha capito niente Non ha capito niente Sul resto ragazzi Sulla questione ripeto Proprietarie Sul fatto che non abbiamo una dirigenza Non siamo competenti Io Non penso che ci voglia questa partita Per dirlo Adesso la gente si sfoga adesso Perché Siamo all'apice Stiamo arrivando all'apice Dopo il derby Arriviamo all'apice E quindi La gente si sfoga ora Facci Cioè nel senso È scontato parlarne ora A me non mi va Cioè non ha senso Anche perché ve l'ho già spiegato Ve l'ho già detto Siamo davanti Ripeto Piccolo Piccolo Assunto E poi vi lascio Siamo arrivati Siamo in mano Ragazzi Siamo una proprietà Con il quale io non collaborerò mai Ho fatto questa scelta Io non lavoro Ed va contro il mio lavoro Che può essere il mio lavoro Io non collaborerò mai Con Redbird Mai poi mai Finché la mentalità sarà questa Non collaborerò mai con loro Una proprietà che non cura L'interesse del Milan A cui non frega niente Degli risultati sportivi Se arrivano bene Che devono galleggiare Per arrivare quarti Ma con la scelta Che ha fatto di Fonseca Rischiano di non arrivarci Nulla Una società che non prende Zirze Per prendere Morata Non perché Morata Non vada bene Ma al massimo Le prende tutte e due E perché Perché scegli Morata E non Zirze Semplicemente per un lato economico Per risparmiare Una società che Vende i giocatori Di Maldini Semplicemente perché Sono di Maldini Non c'è nessun motivo Di vendere Calulu L'hanno venduto Quando ti serviva un terzino Vendi Simic Quando poteva farti comodo Per le liste Compre su un difensore Non compri un portiere Sapendo che Magna hanno tutti i problemi E adesso giochiamo Con Torriani Non valuti L'opportunità Di o vendere Benassere Se non riesci a vendere Comunque comprare uno Al posto di Benassere Col fatto che Era lista libera Con Simic Lo tenevi O un italiano Visto che puoi avere Anche italiani Sapete che potete Listare gli italiani Senza dover Mettere nei 17 E tante tante altre cose Ragazzi Quindi Non penso Bisogna Ci sia da aggiungere altro Come si esce Da questa situazione Non si esce Do questo spoiler Non si esce Perché Perché sul campo Ci potrebbe essere una reazione Me lo auguro Io spero che al derby Vinceremo E faremo il culo all'Inter Ma Non penso che succederà O meglio Se succederà Sarà semplicemente Perché l'Inter Avrà un blackout E ci regalerà la partita Perché Lo vediamo tutti Che squadra siamo Basta un gol Dopo che stai giocando bene E crolli Quindi Non possono affrontare il derby Non ce l'hanno Non ce l'hanno Le palle per affrontarlo A meno che l'Inter Affronti il derby male Quindi La soluzione qual è Un campo Da tifoso speri Speri che i risultati arrivino Esattamente come speravi con Elliot Esattamente come speravi Con Maldini Quando era con Redboard E quando Se ne è andato L'anno scorso Ma la realtà È che devi avere La consapevolezza Che hai una proprietà Del quale non gliene frega Niente Se oggi hai perso Nulla Loro vendono le magliette Comunque in America In America Non sanno neanche Quanto ha fatto Stasera il Milan Ma la comprano Perché le magliette belle E figa La merce è bello Le sponsorizzazioni vanno bene No Quindi la soluzione qual è Extra campo La soluzione è extra campo Nonostante i risultati Io finalmente la curva Si è fatta sentire Ok T'ho posto Ma per me non deve essere legata ai risultati Ma l'ha fatto capire anche la curva Non deve essere legata ai risultati Questa roba qua Questa contestazione Deve essere legata Neanche ai giocatori Perché Magari contesti ai giocatori Poi giorno dopo Giocano bene Non è in campo Fuori La contestazione deve essere mirata Fuori A quelli là Prendersene E andarsene Chiudiamo con Il mio slogan Non è Milan Senza ambizioni Cardinale Fuori dai coglioni Forza Milan sempre ragazzi Sempre Sempre e comunque Grazie a tutti